Il sistema della sicurezza ferroviaria prescinde dal numero dei binari e quanto ribadito dall'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato italiane Renato Mazzoncini dopo la sciagura ferroviaria sulla linea tra Andrea e Corato. Per la DDFS tutte le linee hanno un livello di sicurezza garantito anche sul binario unico. Si continua a viaggiare con sicurezza anche con il binario unico? Ma assolutamente sì, la questione del binario unico è una questione che non ha senso, la gran parte delle linee ferroviarie del mondo sono a binario unico, si raddoppiano i binari o si triplicano o si quadruplicano esclusivamente in funzione della quantità di traffico che bisogna gestire. Però i sistemi di sicurezza ferroviari prescindono dal numero dei binari, quindi tutte le linee ferroviarie hanno un livello di sicurezza che è garantito ovviamente anche sul binario unico. Il numero uno delle ferrovie dello Stato ha poi aggiunto che sul posto dell'incidente sono al lavoro anche i tecnici dell'FS nonostante la tratta sia gestita da un'altra azienda. Tutte le nostre squadre si sono mosse, si sono comportate esattamente come se fosse una nostra linea, i nostri colleghi, i nostri clienti per quello che potevamo fare, purtroppo lì c'era poco da fare. Mazzoncini poi è ritornato sul nuovo piano delle ferrovie dello Stato che prevede un'unica rete ferroviaria nazionale capace di assicurare efficienza e sicurezza. Da punto di vista dell'efficienza della rete, della nostra rete ferroviaria, ritengo che avere un'unica rete ferroviaria nazionale garantisca il massimo utilizzo di questa rete e per utilizzarla al massimo, siccome tutte queste reti ferroviarie concesse sono normalmente interconnesse con la nostra rete, una gestione unica, anche dal punto di vista normativo e quant'altro, favorirebbe l'utilizzo e quindi la massima sinergia ed efficienza del sistema. Federico Sisimbro, Sky TG24